Cioè noi manteniamo intatto il ruolo del Presidente della Repubblica perché è giusto così, penso io, e perché sappiamo che il Presidente della Repubblica in Italia è sempre stato una figura di assoluta garanzia e c'è a maggior ragione bisogno di quella figura di assoluta garanzia quando domani ci dovesse essere un governo che ha un primo ministro eletto direttamente. Cioè in tutta la scorsa legislatura sono stati realizzati programmi che non erano stati votati da nessuno. Mi si può dire, diciamo, in che cosa si sostanzia la democrazia rappresentativa? La democrazia rappresentativa si sostanzia nel voto per te perché tu possa fare questo in mia vece. Ma se manca questo passaggio temo che ci sia un problema che noi abbiamo visto molte volte. Stiamo cercando di fare una riforma che mantenendo gli equilibri, mantenendo le garanzie, mantenendo il ruolo del Capo dello Stato consenta ai governi domani intanto di avere, diciamo, ragionevolmente la possibilità di durare cinque anni perché noi abbiamo pagato la nostra instabilità pesantemente. L'abbiamo pagata in tema di credibilità internazionale, l'abbiamo pagata in tema di, diciamo, visione e strategia perché non ereditiamo il più pesante, diciamo, il pesantissimo debito pubblico che abbiamo per qualche ragione. L'ereditiamo perché chiaramente quando ci sono dei governi che hanno un orizzonte breve e quei governi tenderanno, per esempio, a privilegiare la spesa pubblica rispetto agli investimenti. Perché? Perché i risultati degli investimenti si vedono più tardi di quelli che offre la spesa pubblica. Ma ha significato anche la debolezza della politica rispetto a una serie di altri. No, c'è, per esempio, sul tema economico, la incapacità di dare risposte sulla questione degli investimenti, di fare riforme di lungo respiro, cioè noi lo abbiamo pagato.